come sempre recatevi su zoom effettuate l'accesso e individuate l'impostazione che ci interessa nella scheda impostazioni allora parliamo adesso dell'immagine dello sfondo virtuale e dei filtri video se abbiamo questi comandi disattivati e ci richiamo su zoom nelle impostazioni sfondo e filtri il messaggio è l'impostazione è stata disattivata per attivarla vai alle impostazioni della riunione quindi dovremmo accedere e attivare questa opzione come stiamo vedendo adesso assicuriamoci di aver attivato questi comandi questa impostazione invece ci dice consenti l'uso di video per sfondi virtuali quindi potremmo inserire anche un videoclip non per forza solo uno sfondo ora richiamoci su zoom ok dobbiamo rieffettuare l'accesso quindi disconnettiamoci o meglio usciamo e rilanciamo zoom sfondo e filtri ok di tutto quello che riguarda lo sfondo ne ho parlato nel tutorial precedente questa opzione ci consente di utilizzare uno sfondo alle nostre spalle senza un green screen se facciamo clic su uno degli sfondi che ci offre zoom ci chiederà il download facciamolo per la prima volta ecco notate zoom in automatico ha eliminato tutto ciò che è intorno a noi con un semplice clic sugli altri sfondi li andremo a cambiare ma zoom ci dà la possibilità di aggiungere noi dei video o delle foto basta andare su questo pulsante aggiungi immagine o aggiungi video facciamo l'esempio di un'immagine prendo per assurdo il mio logo ecco ho applicato uno sfondo personalizzato stesso discorso vale per i video potremmo anche eliminare quello che non ci serve basta andare su questa x clicchiamo su elimina un'altra funzione interessante è questo ho uno schermo verde se ci facciamo un clic e poi selezioniamo uno sfondo ci comparirà questo messaggio è richiesto uno sfondo video con colore uniforme zoom in automatico si è preso il grigio ma potremmo anche selezionarlo per esempio notate adesso seleziono il verde tutto ciò che è verde verrà sostituito con questo sfondo inclusi i miei occhi diciamo rosa notate cosa succede ecco l'importante è capire il principio di funzionamento se selezioni il bianco stesso discorso ho uno schermo verde perché proprio il verde? perché il verde è uno dei colori più utilizzati o meglio più indicati per fare il green screen però voglio dimostrarvi che anche con un altro colore è possibile fare questa operazione selezionando uno schermo verde andiamo a selezionare appunto uno sfondo un video o quel che sia per esempio il logo selezioniamo il colore e lo andremo ad applicare direttamente in quel punto stesso discorso per un video potremmo utilizzare questa tecnica per far vedere un piccolo filmato o un messaggio direttamente nel green screen senza in un certo senso utilizzare programmi esterni notate ho caricato uno sfondo con un testo situato in questa area dello schermo se ci faccio un click seleziono il colore io vedrò direttamente quello che ho scritto in quella sezione quindi sto trasmettendo un messaggio a tutti direttamente dalla mia webcam direttamente con la funzione dello sfondo virtuale qui apriamo la parentesi esistono questi filtri video Zoom ha integrato direttamente nel suo client la possibilità di aggiungere degli effetti tutto intorno a noi o su di noi esempio se vogliamo aggiungere un colore su tutta la schermata ecco basta cliccare semplicemente su quelle disponibili e avremo il colore desiderato per annullarlo basta che andiamo su questo pulsante Zoom sicuramente ne aggiungerà nel corso del tempo altri nuovi e poi ci sono gli effetti di studio al momento in versione beta se li clicchiamo abbiamo la possibilità di intervenire sul nostro viso potremmo aggiungere delle sopracciglie finte specificarne la dimensione e il colore per annullare clicchiamo su questo pulsante stesso discorso per i baffi e la barba è il colore delle labbra un'opzione che dice applica a tutte le riunioni future quindi ogni volta non dovremo andarle a selezionare ma si applicheranno in automatico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti